Oggi ragazzi giochiamo a indovina chi? Che ne dico, tu sei minore, lo chiederò al santone E i liquidi crocanti e quelli scarsi, a Carrara e Scarfi Tu credi a Gianluca Bacchi e Rappo, io credo nel santone dello svapò Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del santone dello svapò Oggi vi parlo di un altro prodotto di Vaporesso La Swagpix 80 con il display micidiale Vi farò vedere dopo perché è micidiale Adesso andiamo a vedere da vicino, poi prova di svapò e considerazioni finali Ecco voi ragazzi, la scatola della Vaporesso Swagpix 80 Già dalla foto vediamo che è chiaramente ispirata a un prodotto molto famoso Però abbiamo da questa parte l'elenco delle caratteristiche del prodotto Sul retro abbiamo le specifiche del prodotto e un elenco del contenuto della scatola Guardiamo velocemente le specifiche Partiamo dalle dimensioni 99,7 x 24.1 x 47.7 mm Ci sono due coil GXT, una da 0.2 e una da 0.3 ohm La prima va da 45,60 watt e quella da 0.3 va da 32,45 watt Il tank ha una capienza di 4 ml, la potenza va da 5,80 watt e funziona con una 18,650 non inclusa Il display è 0,96 pollici e il dispositivo si carica a 5 volt per 2 ampere con USB tipo C Inoltre al di sotto vediamo scratch and check tagliandolo grafico, una vertenza e i vari marchi Aprendo la scatola troviamo questa busta dove all'interno abbiamo un'istruzione per cambiare le coil La carta di garanzia e le istruzioni della box Al di sotto due resistenze, la box e il cavo di ricarica Ed ecco voi ragazzi la Swag PX80 Qui abbiamo questa finta pelle, tra l'altro leggermente morbida e in rilievo Foro dell'aria da questa parte e foro dell'aria da quest'altra Qui c'è una pellicola che va a coprire questa finitura in carbonio Qui abbiamo il tappo per la batteria All'interno c'è il pin e c'è il simbolo più E all'interno del tappo c'è un'avvertenza che ci dice di non usare batterie sbucciate Ora inserisco la batteria e state attenti che adesso succede la cosa incredibile Il display è qua L'idea sembra notevole, peccato che in controluce si veda il finto carbonio Quindi quello un po' magari va a dar fastidio alla visualizzazione del display La pod è magnetica e al di sotto abbiamo i pin e i magneti Vedete qui sono i fori dell'aria che abbiamo visto prima Tasto fire, tasto più e meno e presa di ricarica Al di sotto troviamo i vari marchi scritta Swag PX80 e i fori di sfiato Ora guardiamo da vicino la pod Qui abbiamo le asole Al di sopra c'è il simbolo con il lucchetto di aperto e chiuso Qui bisognerà premere in basso questo Ora vado ad inserire la coil e guardate bene cosa succede all'interno della finestra Si alza e ci libera il foro Quindi ragazzi questo meccanismo ci consente di togliere la coil anche a liquido carico Una volta che la inserite vedete che questa qui va praticamente in piano Una volta inserite la coil girate verso il lucchetto chiuso Di modo che questo non possa più andare giù accidentalmente Anche se vi dico che questo meccanismo è abbastanza morbido e non ha un blocco Però insomma stateci in occhio mettetelo verso il lucchetto chiuso Ora vado ad aprire e a caricare con liquido Come liquido uso il croccantissimo Carmel Edition E ora facciamo la prova del 9 Andiamo in apertura Spingiamo in basso Togliamo la coil e vedete che non perdiamo liquido Il meccanismo funziona quindi bravi non c'è niente da dire A questo punto ragazzi andiamo ad inserire la pod Si accende il display andiamo da 5 a 80 watt Nel display visualizziamo la batteria Il modo che in questo caso è watt Il best della coil da 45 a 60 La resistenza I volt Il contapuff E i secondi Il display ragazzi ha una bella luminosità Perché comunque si riesce a vedere bene anche Se c'è questa texture sopra Ok questo disegno di finto carbonio Premendo tasti più e meno contemporaneamente Andiamo all'interno del menu Possiamo scegliere tra vari watt vari volt Smart vari watt Interessante E andare a togliere il contapuff Oppure cambiare il tema Ripristinare l'impostazione di default Oppure uscire Ora vado in smart vari watt Lo accendiamo Perfetto E sulla box ragazzi non c'è altro da dire Perché il prodotto è tutto qua Anzi mi manca di dirvi il peso Allora ultima considerazione sulle finiture Prima di andare al peso Il prodotto è fondamentalmente senza difetti Perfetto Qui c'è un po' di residuo del packaging L'unica cosa L'unica cosa che ho visto Vedete è questo Quello è un difetto È chiaro che può essere Tranquillamente un difetto Che è solo in questa box Quindi si può tranquillamente Quasi sorvolare La box pesa 178.4 grammi E comunque il peso è ragionevole Non mi sembra eccessivo Per il tipo di prodotto Quindi è tutto per la vista da vicino Noi andiamo alla prova di svapo E alle considerazioni finali Ragazzi Cosa vi devo dire Vi devo dire ben poco Il display è comodo È veramente comodo È bello Se siete sotto la luce diretta Si vede un po' il disegnino Ma altrimenti Non dà assolutamente fastidio E anche se siete sotto la luce diretta Non è che vi dia fastidio Ok Lo intravedete Quindi Il display ci sta Ok Il prodotto è veramente ben fatto A parte questo difettino qui Che vi ho fatto vedere Ma questa è una roba Che sarà solo sulla mia Insomma Interessante il fatto Che il tank Gli si possa cambiare la coil Senza Dover per forza Suotare il liquido Regolazione dell'aria Che funziona bene Aroma E vapore Aroma e vapore Sono perfetti Come anche comunque La compattezza del prodotto Perché ragazzi Il prodotto risulta morbido E tra l'altro Per essere un prodotto Che monti una 18650 Sembra anche sensibilmente Più piccolo Insomma Con gli spazi Sono veramente Stati accorti Vaporezzo con questa È migliorata tanto Forse ha capito Che è ora di smettere Di fare le box così Hai capito Che sono Delle mattonelle E ragazzi Anche se il design Non è Ovviamente Innovativo Ok Perché Il tappo della batteria L'atomizzatore qui Ricorda chiaramente Un altro prodotto Anche se poi Qui è stata integrata La riosità È stato tutto Smussato Cioè Ci sono comunque Dei miglioramenti Anche se non è poi Una novità Però ragazzi Il prodotto Veramente merita Perché è assolutamente Ben fatto Il peso Per essere in metallo Non è assolutamente Eccessivo Sono belle le finiture È bello tutto È chiaro Io qui C'ho sto difettino Ma sapete Può capitare una box Ogni tanto Quindi Comunque ragazzi Questo è un prodotto Che se non avesse Sto difettino qui Si andrebbe a casa Con un 10 Proprio Occhi chiusi Ok Io al mio Personalmente Gli do un 9 e mezzo Ok Anzi un 9 Perché voglio essere Un po' più stronz Perché Purtroppo Insomma Non è una bella cosa Che ti capita Il prodotto Con un difetto Però Senza il difetto Ragazzi Questo qui è un 10 Cioè funziona Veramente bene Batteria estraibile Potete caricarla Con l'USB-C Quindi la ricarica è veloce L'aroma è perfetto L'it è perfetto La vaporosità è perfetta Funziona Veramente Bene Quindi Vedete voi Se vi può Servire Oppure no Se fa il caso vostro Oppure no A me piace Veramente tanto Soprattutto perché Non rischiate Che venga giù il liquido Se cambiate la coil È chiaro ragazzi In occhio le condense Pulitela Bla 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 Insomma Sempre la solita storia Di tutti questi sistemi Io non ho assolutamente Altro da aggiungere Fatevi sapere cosa ne pensate Se l'avete provata Queste coil Vanno veramente Veramente Bene Ragazzi Quindi Prendetela in considerazione Con l'ultima svapata Vi saluto Veramente ragazzi Facilità d'utilizzo Vapore E aroma Top E che lo svapo Sia con voi